Io sono Erika Galeazzi, nasco architetto ma mi occupo di web marketing e sono una specialista della SEO. Tutto quello che è posizionamento sui motori di ricerca e che aiuta a dare visibilità a un sito web, al brand, ai prodotti dei miei clienti. Per me ispirazione è un misto in realtà di qualcosa di fantasioso e quindi qualcosa che nasce all'improvviso ma spesso è anche legato a qualcosa di più scientifico perché io faccio molta analisi e quindi secondo me le due cose in realtà si compenetrano, quello che è scienza e quello che è fantasia e creatività. La consapevolezza oggi per me è una cosa molto importante, devi essere consapevole delle difficoltà e dei rischi di ogni operazione che fai, soprattutto quando hai in mano il brand di un cliente, quindi hai la responsabilità di quello che vai a fare perché di fatto lo fai con la faccia sua. E poi serve consapevolezza del proprio lavoro, delle proprie capacità, di quello che si può essere in grado di fare e bisognerebbe cercare di spostare il limite della consapevolezza a qualcosa di più grande per poter fare grandi cose. Le alleanze sono una cosa importantissima perché tante teste funzionano meglio di una, saper lavorare insieme significa produrre più cose, unire più idee e quindi di fatto produrre cose migliori, cose più buone, più utili alle persone. Quindi le alleanze per me sono una cosa importantissima.